Nella serata di sabato 29 gennaio si sono esibiti presso la masseria Santa Gapito i Bermuda Acoustic Trio. L'eclettica band, composta da Giorgio Buttazzo, Gabriele Monti e Andrea Atto Alessi, ha dato vita ad un sorprendente concerto di circa tre ore per la gioia del pubblico eterogeneo e variegato giunto numeroso ad assistere all'evento. L'originalità, che è alla base delle loro esibizioni, sembra essere anche il tratto caratterizzante della loro nascita. Il gruppo infatti nasce per caso nel 1995 durante il soundcheck di un concerto acustico di Pierangelo Bertoli. Il pubblico rimase incantato dall'inusualità dei loro arrangiamenti ed improvvisazioni e divenne subito chiaro come si fosse creato qualcosa di raro e prezioso ma soprattutto diverso. Dal loro primo concerto tenutosi in un locale di Vignola, il gruppo ha percorso una lunga strada ricca di successi. Jeff Beck, Buenavista Social Club, Harvey Reed, Tommy Emanuel sono solo alcuni degli artisti con cui il trio ha avuto la fortuna di esibirsi. Il repertorio di questa banda acustica è vastissimo e spazia dal pop a rock passando per jazz e blues. In un loro concerto è possibile ascoltare canzoni dei Pink Floyd e ritrovarsi di colpo a sentire una marcia di Mozart. In questo universo musicale, in questo calderone di note, è semplice e piacevole perdersi. In questo universo musicale, in questo universo musicale, è semplice e piacevole perdersi. Grazie.